Ciao a tutti, bentornati, siamo alla Di Mano in Mano di Cambiago e con il consueto preview settimanale dieci articoli che andanno in pubblicazione sul nostro sito a partire da lunedì. Questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva per le varie ferie, così vi godete il mare o la montagna e poi ci rivediamo qui. Ovviamente saremo sempre aperti, tutta estate, per qualsiasi acquisto online o in negozio. Oggi ho pensato di presentarvi dieci articoli legati al mondo dell'oggettistica tra bronzi, sculture linee, argento e chi più ne metta, tra poco li vediamo insieme. Vi ricordo alcune cose prima di iniziare, che settimana prossima, a partire dal 6 luglio, partono i saldi quindi sia a Milano che a Cambiago solamente in negozio parte il saldo dell'abbigliamento. Di mettere un bel like a questo video se vi piace e di iscriversi alla nostra pagina di YouTube. I miei contatti 351-690-4263 o assistenzaclienti-di-mano-in-mano.it dove potete contattarmi già da subito per qualsiasi prodotto che vedete oggi o qualsiasi altra cosa sul sito per preventivi di restauro, lavaggio tappeti, consegne, eccetera, eccetera. E basta, se mi sono dimenticato qualcosa ve lo dico nel corso della puntata. Partiamo, oggi Giada, con questo ventaglio in teca da tavolo. Arriva dall'Italia dalla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento e presenta stecche in legno e pavesi in carta con stampe ritoccate a mano. Nelle riserve ci sono delle scene galanti, ce le sta facendo vedere Giada. La teca è rivestita con carta, con profili e motivi ripetuti in oro. In basso a destra è presente il marchio della manifattura G Viganò Milano. Le misure sono 35 di altezza, 52 di larghezza e 10 di profondità per un prezzo di 250 euro. Andiamo avanti con questa liscezza, non della mia testa ma di questa palla, perché il secondo prodotto di oggi è questo vaso e sfera in marmobreccia. Sempre dall'Italia, della metà del Novecento, è un vaso a forma medicea, di cui non ho molto altro da dirvi, se no secondo me è veramente carino. Ed interessante soprattutto per il prezzo, perché ha un prezzo di 170 euro, le sue misure sono 32 di altezza e 14 come diametro della sfera. C'è anche una versione un po' più piccolina, quella che vedete a fianco, un po' le stesse caratteristiche, troverete sul sito anche questa la prossima settimana. Proseguiamo, già che siamo qui in zona, con questo calamaio in marmo verde serpentino, quindi qua è una zona di marmi in questo momento, questa parte di allestimento. Marmo serpentino e bronzo, sempre in Italia, e questo invece è un po' più tardo che nella prima metà del XX secolo. Le misure sono 12 di altezza, 41 di larghezza e 23 di profondità, per un prezzo di 350 euro. Ci troviamo nell'area più interessante legata all'antiquariato, quindi l'esposizione dell'antiquariato in negozio, per presentarvi questo articolo nello specifico, che è appunto una base da parete, in legno intagliato e dorato a mecca, con decori a volute fogliacee, caratteristici dello stile barocco. Il piano è ornato a figure geometriche policrome. È un pezzo molto antico perché è nell'Italia del 1700. Le sue misure sono 11 centimetri di altezza, 40 di larghezza e 33 di profondità, per un prezzo di 1200 euro. Già che siamo qui in zona, passiamo dalla nostra scatola, a questa coppia di candelieri in alabastro. In Italia, siamo in Italia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e sono scolpiti con decoro a fiori, foglie e tracci d'uva. Le misure sono 53 di altezza e 18 di diametro e il prezzo per la coppia è di 800 euro. Sì, ah scusami, stavo guardando uno dei nostri migliaia di libri che abbiamo. Siamo qua nella nostra libreria del negozio di Cambiago. Guardate quanta offerta c'è. Ma sto cercando il nostro filosofo che si è nascosto da qualche parte. Vediamo dov'è. Guardalo qua. Era qui anche lui a dare una letturina. Allora, è una figura di filosofo in legno scolpita con un residuo di laccatura antica. Un pezzo molto particolare. Siamo sempre in Italia, anche questo è un pezzo molto antico perché anche lui è del 1700. Le sue misure sono 34 di altezza, 13 di larghezza e 9 di profondità per un prezzo di 480 euro. Allora, ovviamente oggi è una giornata di allestimenti quindi qualsiasi urla o schiamazzo che ci passa intorno è semplicemente perché stiamo allestendo visto che domani e dopo siamo aperti. Approfitto per ricordarvi a Cambiago dalle 10 alle 19, sia sabato che domenica, idem a Milano. Se non vi sono piaciuti i due candeleri di prima perché magari l'alabastro non vi fa impazzire vi presento questi due che invece sono in legno. Siamo sempre in Italia e ancora nel 1700 oggi cose molto antiche. Sono in legno intagliato e dorato le loro misure sono 56 di altezza, 14 di larghezza e 12 di profondità per un prezzo per la coppia di soli 200 euro. Per chi non lo sapesse nel negozio di Cambiago trovate un po' di tutto quindi da oggetti da mercatino dell'usato a oggetti da collezionismo ad esempio questa super fornitura di swatch oggetto orologio iconico di qualsiasi tipo potete venire a Cambiago e trovare il vostro orologio della swatch. Ma parliamo ora di questa coppia di lanterne ad olio nell'Italia tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. Sono lanterne in bronzo ad olio con supporto a foggia di serpente in ferro battuto. Le misure sono 68 di altezza, 38 di larghezza e 25 di profondità per un prezzo per la coppia di 280 euro. Impreziosiamo il nostro finale con due oggetti di argento. Questo è il primo che è un centrotavola in argento sbalzato a foggia di cesto con ghirlanda di frutta sul bordo. All'interno è presente una vaschetta in metallo. Sono 380 grammi di argento per 320 euro di prezzo. Guardate quanto è piccolo il nostro ultimo oggettino. Eccolo qua Giada. È una scultura in argento cesellato raffigurante la divinità hindù Ganesh. Ha un peso di 270 grammi una qualità incredibile. È del XX secolo e siamo ovviamente in Asia come arrivo diciamo di questo piccolo oggetto. Le misure sono 7 centimetri di altezza 5 di larghezza e 3 di profondità per un prezzo di 250 euro. L'indovina il prezzo della scorsa settimana lo vince Viviana con 100 euro di indicazione sul prezzo. Non posso farvi rivedere il vestito perché è stato venduto nel frattempo. Che dirvi? Io vi saluto e vado come potete vedere dal mio abbigliamento in montagna. Due settimane. Ci vediamo ai prossimi video che tornano dopo l'estate. Nel frattempo i nostri canali rimangono sempre disponibili quindi saremo aperti come negozio saremo aperti online quindi iscriveteci per qualsiasi cosa. È appena terminata la promozione online che abbiamo fatto poco fa ma sul nostro sito trovate ancora le nostre occasioni. Nella sezione occasioni ci sono tantissimi prodotti scontati fino al 50%. Vi ricordo ancora i miei contatti 351-690-4263 o assistenza clienti chioccioladimanimanio.it Ci vediamo dopo l'estate buone vacanze a tutti e grazie per averci seguito in queste puntate.